Una sconfitta dopo una partita sofferta, tutto sommato equilibrata, risultato giusto o poteva anche scapparci l'un uomo? Risultato giusto, alla fine comunque hanno ragione sempre chi vince. Niente, la partita l'abbiamo iniziata bene, l'abbiamo iniziata molto bene perché comunque abbiamo avuto un'occasione davanti al portiere purtroppo non concretizzata, altre situazioni, abbiamo fatto un buon primo tempo, purtroppo ci siamo ritrovati sotto al primo tiro in porta con un errore in disimpegno c'è stato un appoggio sbagliato e purtroppo abbiamo preso gol, poi è normale che la partita si è fatta in salita però penso che abbiamo fatto di tutto per poterla riequilibrare, non ci siamo riusciti, è normale che forse il risultato di parità era quello più giusto perché comunque il Santomero secondo me ha giocato con tutto il rispetto al di sotto delle aspettative e sicuramente se c'era una squadra che meritava qualcosa eravamo noi. Per quello che riguarda la classifica, una posizione di relativa tranquillità con la squadra che negli ultimi mesi è cresciuta non di poco? Sì, siamo cresciuti molto, oggi se non sbaglio su 12 partiti abbiamo perso solo due volte siamo di poco sotto al Giulianova come classifica nelle ultime 12-13 partite però l'obiettivo ancora non è raggiunto, l'ho detto sempre nello spogliatoio io voglio il massimo in ogni partita perché l'obiettivo della salvezza non è raggiunto quindi continuiamo adesso nelle ultime 11 partite a giocarci tutte le partite, abbiamo partite difficili però comunque siamo rientrati prepotentemente in una zona più tranquilla. Dopo la sconfitta immeritata con la Torese sono arrivati questi sei punti, sorride la classifica del Santomero. Sì, ma io sono sempre stato molto fiducioso di questa squadra perché comunque al di là di forse un paio di partite dove non siamo stati efficaci ma le altre partite sono state quasi tutte decretate da episodi, un po' da sfortuna quindi non avevo dubbi che questa squadra può fare quello che sta facendo insomma e sono arrivati sei punti in due partite importanti con due scontri molto difficili sulla carta perché comunque Cologna è un'ottima squadra e anche Alba Montaurei ha dimostrato di essere una squadra molto cinica, una squadra messa bene in campo, una squadra difficile da affrontare. Sulla classifica incide in maniera notevole insomma il mercato di riparazione oggi Vincenzo De Rosa protagonista assoluto con questa doppia. Beh, da inizio anno abbiamo fatto quattro partite e nove punti quindi il mercato ha inciso su quello che era, se la brava la società, di individuare quello che mancava nel giro di andata avevamo fatto pochi gol avevamo preso pochi gol ma avevamo fatto anche pochi gol quindi non avevamo fatto molti punti adesso abbiamo tante armi da giocarci ogni domenica.